Musica Grande sorpresa per i residenti di Viale Ovidio per i lavori di una grande opera artistica. Si tratta dei lavori per l'opera di Street Art, Ritornerai, dell'artista Daniele Geniale. Sostenuta dall'assessorato all'industria turistica e culturale della regione Puglia attraverso il bando regionale Street Art La cultura si fa strada, l'opera è dedicata ai giovani del sud che migrano. Non a caso, l'opera, composta da un elemento figurativo ed un altro testuale, verrà esposta permanentemente sulla parete esterna di un edificio, nei pressi delle fermate dell'autobus che spesso offrono servizio al trasporto di studenti e lavoratori. In corso di completamento nella giornata del 30 ottobre, l'opera ha visto il sostegno dell'organizzazione Andra Bene in Comune, con soddisfazione espressa dal consigliere regionale Sabino Zinni, unitamente al consigliere Enzo Colonna, attraverso la misura, promozione e sostegno della Street Art. L'opera rappresenterà il tema con diverse paia di gambe, accompagnate da alcuni bagagli, perfettamente in sintonia con la tematica del viaggio e quindi quella della migrazione. Realizzata grazie all'approvazione di una candidatura del Comune di Andrea, inoltrata a firma del commissario straordinario lo scorso settembre, l'opera non solo consentirà a molti di riflettere sulla migrazione, ma anche sulle potenzialità offerte dai giovani artisti del territorio. Grazie a tutti i nostri spettatori, Grazie a tutti i nostri spettatori, Grazie a tutti i nostri spettatori, Grazie a tutti. Grazie a tutti.